Buongiorno a tutti e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa dedicata alle notizie sportive di Udinese Channel. Come ogni mattina diamo uno sguardo ai principali giornali nazionali e locali e ci soffermiamo ovviamente sulle notizie sia sportive ma che riguardano l'Udinese. Cominciamo dal Messaggero Veneto questa mattina subito in primo piano, in prima pagina, quella che è la delusione dei tifosi dopo l'ultimo pareggio ma anche per quanto riguarda sembra quello che è il reparto del centrocampo, un centrocampo scadente, l'Udinese peggiore da 20 anni. Il centrocampo quindi scadente, riportate Quagliarella in Friuli. Questi sono i tifosi bianconeri molto delusi che sollecitano la società a intervenire sul mercato per correggere un centrocampo scadente e rivitalizzare l'attacco magari appunto riportando in Friuli Fabio Quagliarella. Andiamo subito quindi all'interno della pagina sportiva per poi vedere invece un'altra pagina che parla sempre di stadio perché ieri c'è stata la visita del presidente del Friuli Venezia Giulia Deborah Serracchiani proprio al quello che è il cantiere dello stadio Friuli per vedere quello che sono il proseguo dei lavori e poi approfondiremo proprio questa notizia. Ma intanto andiamo a vedere ancora la pagina sportiva perché c'è l'analisi anche del barone Franco Causio che ogni domenica della partita di una partita interna è seconda voce della telecronaca e ha dichiarato Stramaccioni ha bisogno di tre rinforzi. Causio un difensore un regista e una punta per alzare il rendimento nel girone di ritorno ci sono al punto delle dichiarazioni proprio di Franco Causio e poi viene ripercorsa anche la sua carriera ha detto probabilmente qualcosina è stato lasciato per strada ma il bilancio è abbastanza positivo secondo me l'allenatore nuovo gli infortuni e le assenze hanno inciso non poco su quello che è il rendimento del girone d'andata poi ancora io non sarei così severo anche se sono il primo a sostenere che questa squadra possa e debba dare di più si parla quindi di solo 12 punti dopo 5 giornate altrettante nelle successive 14 e poi viene chiesto se preferisce una difesa a 3 o a 4 se è meglio per questa squadra. Io credo che l'importante sia dare un'identità di base alla squadra che può essere cambiata solo in caso di necessità direi che il 3-5-2 è la soluzione migliore poi come è successo con il Cagliari dopo l'infortunio di Domizzi si può cambiare queste le dichiarazioni appunto di Franco Causio che ha trascorso tre stagioni a Udini 83 presenze e 11 reti e qui viene ripercorsa insomma in questo articolino anche la sua carriera. Il bilancio quindi dell'andata non è negativo visti i tanti infortuni ma si poteva fare di più ha detto ancora il barone Causio e poi l'acquisto più azzeccato secondo il barone è quello di Terò che ha dimostrato di essere la spalla giusta per Tutò. Quindi si parla veramente a 360 gradi di questo girone di andata bianconero e poi si va a parlare invece anche della posizione di Allan perché Allan è uno di quei giocatori che veramente sta crescendo di partita in partita gli mancava solo il gol. è arrivato nel pareggio contro il Cagliari da Mezzale esprime al meglio tutte le sue qualità secondo il barone. Delusione però come abbiamo visto anche in apertura da parte dei tifosi. Il peggior centrocampo degli ultimi vent'anni messa a disposizione del tecnico una squadra con poca qualità servono forze fresche. Tutti chiedono il ritorno di Quagliarella tra obiettivi e speranze per arrivare a una semplice salvezza basta l'Udinese attuale se si vuole puntare a qualcosa di più serve però prendere il Quaglia. Andiamo a vedere invece la situazione che riguarda la Coppa Italia perché giovedì ovviamente l'Udinese scenderà in campo contro il Napoli e si parla di Bocneviz e Aguirre carte a sorpresa. Sembrano le alternative, sembrano principalmente tre partendo dalla conferma della linea A3 con Ertò, Danilo e Piris. La seconda invece porta il passaggio alla linea A4 con l'aggiunta di Pasquale a sinistra e il conseguente spostamento di Piris a destra con Ertò e Danilo centrali. La terza invece chiama l'esordio di Pavel Bocneviz, ragazzone polacco che Strama sta allenando in prima squadra. Passando invece agli altri reparti, Mediana rientra Widmer assente per squalifica con il Cagliari mentre Pinzi non ce la fa e Badu è ancora in nazionale. Strama potrebbe confermare quindi Alberg oppure rischiare Guillerme che ieri ha effettuato alcuni scattini e un lavoro con la palla. Il brasiliano si era procurato una distrazione a retto femorale con il Sassuolo ed è rimasto fermo una settimana. Per l'attacco invece il nome nuovo potrebbe essere proprio quello di Rodrigo Aguirre, classe 94. Intanto il DS Giaretta ha presentato così la partita intervenendo ieri a Radio Chischis dicendo teniamo la Coppa Italia perché per noi è una strada per arrivare in Europa, siamo rimaneggiati ma comunque abbiamo dei giovani che possono fare bene. Queste appunto le dichiarazioni del DS Cristiano Giaretta in merito all'impegno di giovedì in Coppa Italia. Stasera intanto scenderanno in campo Roma ed Empoli perché riprendono già gli ottavi di finale di Coppa Italia. Domani invece sarà il turno di Inter-Sandoria e giovedì come dicevamo ci sarà appunto Napoli-Udinese che nuovamente seguiremo in diretta. Qui Napoli-Benitez prepara il lancio di Gabbiadini e Inler, l'attaccante alla prima da titolare, l'ex bianconero in campo dal primo minuto dopo tanta panchina. Questa invece è la situazione dei prossimi avversari di Coppa Italia. In taglio alto vediamo invece il caso Lokaka furioso litica con Mijailovic e Osti. Qui ci sono nervi tesi quindi casa Sandoria per quanto riguarda l'attaccante Okaka che ieri ha litigato con il tecnico Mijailovic e poi con il DS Osti che era intervenuto a fare da pacere. Il giocatore ha lasciato in anticipo Bogliasco in arrivo per una multa e forse anche una cessione durante il mercato di gennaio. In quel caso dopo gli arrivi di Muriel e Detò a rimanere sarebbe Bergessio. Fiocco rosa in casa Icardi. Icardi è diventato papà. Selfie in sala parto. L'attaccante dell'Inter è diventato quindi papà della piccola Francesca, nata della relazione con Vandanara, ex di Maxi Lopez. A dare notizia è stato su Twitter lo stesso calciatore argentino accompagnando l'annuncio con l'immancabile selfie che è stato scattato in sala parto pochi minuti dopo la nascita della piccola. Giudice sportivo stop per otto giocatori. Multa alla Lazio. Non ci sono però particolari situazioni da sottolineare per quanto riguarda l'Udinese. Continuiamo la nostra rassegna sportiva e andiamo a vedere la pagina che parla proprio di Quagliarella perché è uno dei nomi che sta uscendo con molta foga in questi ultimi giorni di mercato. Una delle trattative che si potrebbero intavolare ma che soprattutto la tifoseria vorrebbe che si portasse avanti è quella proprio che riguarda Fabio Quagliarella. Il club non spegne la speranza di un clamoroso ritorno ma i passi dovrà farli il procuratore Bozzo con il Torino. Quindi si parla di lui ma bisogna vedere appunto quali possono essere le varie trattative anche perché Pozzo ha parlato comunque di un possibile ritorno. Ha detto Quagliarella è comunque un giocatore importante che farebbe bene all'Udinese ma parliamo di qualcosa che ancora non esiste. Spazio anche alla Coppa d'Africa perché è ovviamente importante anche la situazione di Emanuele Badu che ora è appunto impegnato con la sua nazionale. Il Ghana di Badu, KO però all'esordio con il Senegal comincia male quindi l'avventura per Emanuele Badu in Coppa d'Africa contro il Senegal finisce 2 a 1. Ieri tra l'altro era titolare appunto Emanuele Badu e il finale della prima gara finisce appunto 2 a 1 del gruppo C con rigore al 14esimo di Ayo al quale hanno risposto Toff e Soha al 58esimo e al 90esimo. Parte male quindi questa esperienza, questa competizione per quanto riguarda Emanuele Badu con la Coppa d'Africa ma vissi gli infortuni e vissi la situazione di difficoltà che sta attraversando l'Udinese. Forse non è proprio una notizia così brutta. Superingaggio invece per Giovinco. Addio Juve per 30 milioni, dalla prossima estate giocherà a Toronto nella Major League degli Stati Uniti. Quindi veramente un superingaggio per lui che abbandona quindi l'Italia per proseguire all'estero la sua carriera calcistica. Gli altri affari invece riguardano non solo giocatori ma anche allenatori perché si vede una notizia che riguarda Capello verso una rescissione da 25 milioni con la Russia. La vediamo qui, proprio riportata da questo articolo in cui si fa proprio un breve riassunto su quelle che sono tutte le trattative. Però si parla anche del mercato allenatori perché Fabio Capello potrebbe lasciare il lavoro di commissario tecnico della Russia in seguito alle pesanti difficoltà economiche della Federcalcio locale. Ed è scaduto ieri infatti il termine stabilito dall'Agenzia federale del lavoro sul pagamento degli stipendi arretrati al 68enne tecnico friulano e ai membri dello staff della nazionale che non vengono pagati da sei mesi. Ora si potrebbe arrivare ad una rescissione consensuale che farebbe scattare una penale da 25 milioni di euro. Questa è la situazione riguardo a Fabio Capello. Rapida, vediamo sguardo, uno sguardo rapidissimo anche agli altri sport. C'è Arlins, allarme in attacco, tricesimo da terzo posto. Si parla quindi dell'eccellenza. Agli arancioni non bastano più i gol di Fabio, addio alla vetta. L'undici di Toffolo si conferma, squadra da trasferta anche a Tolmezzo. Ed ora vediamo proprio la pagina di cui vi parlavo prima, quella relativa all'incontro che c'è stato ieri, allo stadio Friuli con il presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, che ha voluto far visita proprio al cantiere del nuovo stadio per vedere quelli che sono l'avanzamento dei lavori. L'Udinese non giocherà a Trieste dopo la Juve l'1 febbraio. Curva Sud chiusa e nienti ospiti per le partite con Milan e Inter. Qui vediamo alcune foto, una veduta dello stadio Friuli e poi ieri il Parampozzo che ha accolto, nelle prime ore del mattino, la presidente Deborah Serracchiani. E poi qui nella foto a destra il sopralluogo che si è effettuato sulle nuove gradinate e curve coperte, proprio per vedere una di quelle zone che stanno procedendo a ritmi molto scanditi per realizzare il nuovo impianto per tutti gli sportivi in tempi veramente brevi. Di questo argomento, l'argomento stadio, si parlerà anche questa sera a Friuli 2015 alle 21. Quindi vi invitiamo a seguire la diretta di questa sera perché si parlerà approfonditamente proprio dell'argomento stadio e di quelli che sono i lavori di riammodernamento del nuovo stadio Friuli. Ora dal Messaggero Veneto ci spostiamo invece sempre in un giornale locale e continuiamo andando a vedere le notizie del Gazzettino e subito in primo piano viene riportato il sopralluogo allo stadio Friuli con Gian Paolo Pozzo, nuovo stadio pronto entro l'anno, le dichiarazioni della Serracchiani, volano economico. E qui nella foto si vede proprio il cantiere della nuova arena calcistica friulana. Andiamo però all'interno della pagina sportiva per continuare ad analizzare la situazione dei bianconeri. Gli alibi sono finiti, ci sono solo errori. Questo è il titolo che parla della situazione delicata con la quale si è chiuso il girone di andata per i bianconeri. I bianconeri stanno dimostrando una certa fragilità caratteriale, poca concentrazione e discontinuità nelle prestazioni. Molti elementi sono sottotono, compreso Capitan Totò, dice il Gazzettino, anche se non sembra così sicuramente al tecnico Andrea Samaccioni che in conferenza stampa ha comunque alloggiato lo sforzo del Capitano. L'intervento di Gian Paolo Pozzo, Quagliarella, ottimo ricordo ma non dimenticatevi di Aguirre. Sono abbastanza soddisfatto, ha detto, della classifica soprattutto in ottica salvezza ma non posso essere per alcuni risultati. Dovevamo vincere alcune gare, mi riferisco a quelle con il Cesena, con il Verona e quella di ieri con il Cagliari. Del resto abbiamo l'ambizione di conquistare più successi. Ieri poi i tre punti li avevamo già in tasca. Per quanto concerne invece il mercato, Pozzo è stato categorico, ha detto, stiamo attenti come sempre, se ci sarà qualche possibilità di innesti interessanti ci saremo, stiamo lavorando e vedremo. Per quanto riguarda Quagliarella è un bravo giocatore e qui ha lasciato ottimi ricordi, ma è inutile parlare di cose per cui non vedo concretezza, piuttosto ci tengo a sottolineare che è passato troppo in silenzio l'arrivo di Rodrigo Aguirre. Andate a vedervi la sua scheda, che è molto interessante, quindi punta tutta l'attenzione su questo giocatore. Situazione invece relativa agli infortunati, perché l'ultimo nella lista di infermeria è quella di Domizzi, fuori due partite a Napoli, mancherà anche Bubnic. Maurizio Domizzi, che lamenta quindi un trauma contusivo, distorsivo, la caviglia sinistra, subito nel corso della sfida di domenica scorsa, verrà sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti strumentali di controllo. Di certo difensore, nella migliore delle ipotesi, stalterà le prossime due gare. Se si considera che anche un altro difensore, Igor Bubnic, non potrà essere presente giovedì sera a Napoli, negli ottavi di Coppa Italia, essendo squalificato, Stramaccioni sarà costretto ad attingere a piene mani dalla formazione primavera, anche perché a San Paolo dovrebbe attuare. Il turnover, come del resto, ha intenzione di fare la natura della formazione napoletana. La ripresa, la squadra bianconera, sosterrà nel pomeriggio, con inizio alle 14.30, un'esercitazione tecnico-tattica in cui verrà provato l'assetto anti-Napoli. Sarà Daniele Orsato di Schio a dirigere la sfida di giovedì contro il Napoli, fischietto veneto di professione tecnico-informatico. Sarà coadiuvato degli assistenti Musolino e Depinto, quarto uomo. Sarà invece Doveri. Anche in difesa occorrono rinforzi, quindi non si parla solo di un centrocampo che sembra aver bisogno, ma anche il reparto difensivo. Quagliarella non è solo un sogno, ma l'Udinese di oggi serve di più, non solo l'attacco ridotto ormai alla coppia di Natale, però anche però la difesa ha bisogno di essere puntellata. Anche qui si parla del Ghana di Emanuele Bado che perde all'esordio, quindi comincia male l'avventura per quanto riguarda Emanuele Bado in Coppa d'Africa, ma sguardo anche alla Galassia Pozzo, agli altri due club della società friulana, il Watford è in zona playoff, Granada la panchina a Resino. Andiamo ora a vedere le altre notizie riportate dai giornali nazionali e cominciamo dalla Gazzetta dello Sport. Qui si parla subito di un Milan inaccettabile secondo il presidente Berlusconi che va giù duro sulla crisi proprio dei rossoneri. Un Milan inaccettabile, la mazzata di Berlusconi a Inzaghi e alla squadra. Inaccettabile perdere contro squadre con calciatori che guadagnano cinque volte meno dei nostri. Il tecnico si gioca la riconferma nelle prossime partite. In taglio alto Juve, pazza idea a tenersi Pogba, il futuro dei campioni d'inverno. I tifosi chiedono di non cederlo, la società ci pensa, ma le offerte sono fuori. Mercato, Montero, Bianconeri, top d'Europa. Di spalla vediamo gli altri titoli. Il primo riguardante al selfie di Icardi con Wanda e la figlia appena nata. L'attaccante dell'Inter è diventato papà di Francesca. Mancini sul momento no, Champions, possiamo farcela qui nella foto. proprio il selfie, direttamente dalla sala parto. Il caso Caca, che litiga con Miajlovic e la Samp, lo caccia. Scontro anche con il DS fuori domani in Coppa. Rischia quindi il posto da titolare per la sfida di domani. La Roma invece insegue la decima stasera. L'Empoli all'Olimpico. García con Iturbe Totti. Destro. Sala intanto è in arrivo. Rompipallone di Genegnocchi. Gagliani ha venduto il Pullman del Milan per 150 mila euro con Inzaghi chiuso nel portabagagli. L'ironia relativa ovviamente al Milan che sicuramente sta passando una brutta brutta crisi. A Cortina invece vince ancora la Vonn. La sorpresa è l'insei. C'è Tiger mascherato per festeggiare qui il bacio di Cortina tra Vonn e Wutz. Andiamo all'interno della gazzetta perché si analizza subito la situazione del Milan e di quelle che sono state delle dichiarazioni veramente dure di Berlusconi che tuona nei confronti della squadra e dice no, perdere così è inaccettabile. Il presidente del Milan non ha quindi digerito la sconfitta contro avversari che guadagnano un quinto. Ieri c'è stata quindi la strigliata di Gagliani e ora Inzaghi si gioca il futuro. Qui vediamo in questo grafico presentato una squadra che è sempre più nel tunnel perché si analizza dalla prima giornata in questo grafico quello che è stato anche l'andamento dei punti del Milan e come possiamo osservare c'è stato un drastico peggioramento soprattutto nelle ultime giornate quindi c'è stata veramente una flessione negativa per quanto riguarda l'andamento della squadra di Filippo Inzaghi. Attento Pippo perché sembra appunto che si possa giocare il posto nelle prossime partite Barbara Berlusconi dopo il K.A. con il Sassuolo ha detto urgente cambiare prestazione inaccettabile e si ricorda che era il 12 gennaio del 2014 la sera della sconfitta per 4-3 e il giorno dopo arrivò l'esonero di Allegri. La società al tecnico, gioco offensivo, prestazioni del Milan e Gagliani ha ribadito l'importanza di essere all'altezza della maglia quindi qui si va un po' ad analizzare i punti di vista da parte della squadra al tecnico dal tecnico alla società e poi ovviamente dal tecnico alla squadra. Quello che viene chiesto da società, squadra e tecnico. Il messaggio però arriva anche quello di Ancelotti che dice Inzaghi merita più tempo ma se non hai campioni servono idee. Il tecnico del Real punge il suo ex attaccante sento Inzaghi al telefono dice ma non mi ha mai chiesto consigli Empoli, Samp e Sassuolo dimostrano che si può fare bel calcio anche senza i fenomeni. Il vertice verità, tecnico squadra più sacrificio e meno alibi i giocatori parlano di deficit atletico Pippo chiede di evitare le solite disattenzioni si lavora ora al 4-2-3-1 La curiosità, Barone e la tesina una bugia di Pippo non la fece com'è Inzaghi e Barone appunto si parla di questi due giocatori Italia e Repubblica cieca uno accanto all'altro in contropiede Barone solo davanti alla porta Pippo che lo ignora e segna rischiando però non poco la scorsa estate la vendetta di Simone che raccontò a Sky ospita Sky un gustoso aneddoto riguardo Inzaghi studente Pippo arrivò e come al solito non aveva fatto la tesina raccontava Barone allora mi guardò e disse Simo l'abbiamo fatta insieme gli risposi insieme ma l'ho fatta io e lui ridendo ribadì devi dire così davanti ai professori segnalai che la tesina era una collaborazione mia e di Pippo quindi finito l'esame gli passai il lavoro ma i voti più alti furono i miei più in là arrivò il Master superato brillantemente poi dall'attuale tecnico del Milan mentre io l'ho presi dopo insieme a Gattoso insomma queste sono spiegazioni del tecnico del Modena Primavera che non ha mai avuto dubbi sulle qualità di Pippo Inzaghi continuiamo la nostra rassegna sempre all'interno della Gazzetta dello Sport vediamo un'altra pagina che parla di mercato SS Fascia Siccheira avanti Pasquale Viola ai ferri corti per il brasiliano c'è l'opposizione dell'Atletico Madrid ma il Milan premia la Fiorentina litiga con il terzino seccati dalle sue parole e tanto Suso firma prenderà l'otto lo vediamo qui nella foto insieme a Adriano Galliani Suso 21 anni centrocampista spagnolo ex Liverpool che firma il contratto con il Milan alla presenza appunto della di Galliani Guillermo Messichiera 28 anni 13 presenze in Liga in questa stagione anche 4 gare in Champions 2 in Coppa di Lega e altrettante in Supercoppa di Spagna nessun gol per il momento per lui mi aspetto ha detto Manuel Pasquale che la società dimostri di volermi tenere che abbia rispetto in riconoscenza queste le parole del difensore della Fiorentina e poi ha parlato anche il DS della Viola Daniele Pradè ha detto la società è molto seccata sono stati sbagliati i tempi e i modi dell'uscita giriamo pagina e vediamo un'altra pagina che analizza il personaggio Icardi figlia Samp e Maxi Lopez tutto Icardi in sette giorni ieri Mauro è diventato papà di Francesca da domani a domenica altre due sfide domani ritrova i blucerchiati domenica Maxi Lopez le amo scrive su Twitter Icardi ovviamente sta parlando della moglie e della nuova e della bambina che è nata appunto Francesca è nata ieri e della quale appunto ha subito fatto l'ha fatta conoscere subito al mondo attraverso un Twitter un selfie con Vanda e appunto la piccola Franciu come ha scritto nel suo profilo Twitter domani Maurito però affronta la sua ex squadra tre gol e domenica c'è il Torino Mancini in taglio basso per essere grandi servono grandi giocatori il tecnico in Champions possiamo e dobbiamo arrivarci poi lotteremo per il titolo Rolando intanto in pista sempre aperta pagina dedicata alla Sampdoria furia o caca litiga con il DS e con il tecnico Mijailovic cacciato da Bogliasco Sampdoria dura con l'Azzurra incerta la convocazione per domani ma resta fino a giugno quindi si analizza qui quello che è accaduto appunto dopo l'allenamento con la Sampdoria il tweet di Stefano ognuno si fa la sua idea ma un giorno la verità verrà fuori questo è il tweet che lascia un po' tutti con molta curiosità oggi si chiude per Muriel e Coda poi la fase di recupero per il colombiano e tanto Eto' da San Silvio a Marassi la Sampdoria prepara la grande festa chiudiamo la gazzetta per andare a vedere la prima pagina del Corriere dello Sport anche qui spazio alla furia di Berlusconi un ciclone sul Milan clamoroso attacco del presidente inaccettabile perdere contro chi guadagna cinque volte di meno nel mirino in Zaghi e i giocatori ma anche tante scelte di Galliani Okakasamp che lì è vicino ai rossoneri e poi si parla del Real che ha chiesto di Pogba Marotta a Prelasta poi assalto Juve a Cavagno Falcao e Verratti il calendario verso il cambiamento la prossima Serie A forse a Ferragosto il via anticipato per aiutare l'Italia di Conte in Argentina è nata una stella intanto Simeone Junior quanti gol per papà già quattro reti nel sudamericano il futuro è suo e poi lo sci vittoria davanti a Woods leggendaria Bon il trionfo e poi i baci chiudiamo la Corriere dello Sport apriamo in chiusura invece il Tutto Sport che ha probabilmente su quelle che sono le notizie di mercato relative a Paul Pogba la Juve può tenerselo credo che Paul resterà noi abbiamo la forza di rifiutare qualsiasi offerta anche se per lui sarà difficile dire no a certi ingaggi al Real no per ora qui si parla di Ancelotti che frena ma ammette Pogba è in grado di giocare in qualsiasi top club brutta aria al Milan Berlusconi ai Inzaghi così è inaccettabile e poi sempre in taglio alto si parla di di quello che è accaduto tra Okaka e la Sampdoria lo scontro tra Okaka e Mialovic lite cacciato dal ritiro della Samp chiudiamo con le ultime notizie gli ultimi titoli il mercato Cigarini De Sena il Toro fa sondaggi poi si parla anche del Genoa Borriello Cagliari invece Idea Gilardino taglio basso Ski Von Record Drama Merighetti questo per quanto riguarda anche la notizia sullo Ski che abbiamo già approfondito negli altri giornali nazionali e locali con questo noi ci fermiamo adesso ci sono nuove notizie nuovi approfondimenti proprio sulla crona che vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento Grazie Grazie Grazie